Prima era a Fiuggi, poi è spostata a Pesaro con un numero cospicuo di atleti e con degli ottimi risultati perché siamo sempre tornati da Pesaro con degli ottimi risultati e così speriamo anche quest'anno insomma. Quindi un vivaio importante, una società storica di Pavia, però manca la cosa fondamentale, manca una struttura che possa accogliere tutte queste atlete, possa farle crescere, farle diventare delle vere campionesse. Sì, manca una struttura, la sede dove attualmente si allenano queste nostre ragazze è la palestra civica che ormai è risulta obsoleta. Comunque nonostante tutto e nonostante questa mancanza di struttura riusciamo ancora a fare degli ottimi risultati. L'amministrazione comunale in questo vi supporta, vi è di aiuto? Stiamo parlando anche con l'amministrazione comunale e c'è in piedi un discorso anche qui che potrebbe essere molto interessante però ancora molto in fase embrionale per cui aspettiamo un attimo prima di parlarne. Grazie. Grazie.